Buongiorno a tutti, oggi saranno ricordate qui a Zeme le vittime del Covid, tutti i nostri concittadini che sono mancati durante la pandemia. Alle ore 15 verrà scoperta la lapide dedicata a loro, che è stata posizionata all'ingresso del cimitero, a ricordo loro che la memoria non li dimentichi mai. Dopo le 15 finita questa cerimonia e benedizione della lapide ci sposteremo in sala consigliare dove consegnerò 10 benemerenze civiche dovute a coloro persone e associazioni che durante la pandemia si sono distinte per gesti e per essersi prestati verso il prossimo nel momento del bisogno. Artigiano di giustizia, di solidarietà e di pace, esperto di umanità, donaci il gusto dell'essenziale, del bello e del bene e i gesti di tutti profumino di carità fraterna.